Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un leone ha ucciso e sbranato il piccolo Nitin di soli tre anni. Stando alle prime ricostruzioni, stava giocando vicino alla sua casa, quando ad un tratto i genitori si sarebbero accorti che il piccolo era improvvisamente scomparso. Secondo i dati del governo, quasi 225 persone hanno perso la vita in attacchi di tigri in India tra il 2014 e il 2019. L'incidente è avvenuto in una zona non nuova a queste tipologie di episodi. Nitin Rakeshbaimeda, questo il nome del piccolo, sarebbe stato vittima del grosso felino a Gansiamnagar, nella municipalità di Savarkundla. Quando si è diffusa la voce che il piccolo era scomparso, sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è subito partita un'operazione per rintracciare Nitin. Sfortunatamente del bimbo sono stati ritrovati solo i resti. In particolare, le autorità non sono riuscite a rinvenire il busto e le braccia, segno del fatto che il piccolo Nitin potrebbe essere stato divorato dal leone. Il grosso felino si trova ancora libero. All'inizio di questo mese, la polizia indiana ha ucciso una tigre dopo che questa aveva ferocemente azzannato almeno nove persone. La tigre stava terrorizzando i residenti intorno alla riserva della tigre di Valmiki, a Kamparan, nell'India orientale, da circa un mese. Gli animalisti locali attribuiscono la causa di episodi come questi, di straordinaria aggressività degli animali selvatici nei confronti degli uomini, alla rapida espansione degli insediamenti umani in India, cresciuti intorno alle foreste e vicino alle principali rotte della fauna selvatica. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.